dei monaci, la prima bonifica, la famosa anche centuriazione dei romani e soprattutto, ma qui mi devo riagganciare il discorso delle cavalli. Infatti, e a proposito dovremmo segnalare, siccome è finita l'artiera lunga, un'ipotesi interessante, è un'ipotesi quasi certa, sicura, attendibile, perché con la scoperta della villa romana si può dire che il termine favaglie derivi da un termine arabo, perché il romano non aveva gli schiavi romani, come schiavi avevano delle terre conquistate, probabilmente qui aveva parecchi schiavi nordafricani, medio orientali o egiziali, per cui gente che parlava l'arabo. Scusi.